Musi lunghi e grande tensione in casa Spezia, l'atmosfera non è certo serena dopo il pesante K.O. 5 a 1 rimediato a Cesena lunedì scorso. Musi lunghi, ovviamente un po' di preoccupazione tra i tifosi, anche se il presidente dello Spezia, Nanni Grazzini, ha detto che i programmi non mutano, la fiducia verso un attore è mutata e quindi proseguono nel solco tracciato a inizio stagione. Certamente queste due sconfitte maturate con Bari e l'altra sera Cesena dove la squadra ha subito 9 gol in appena due partite, al cospetto delle altre 6 dove aveva subito pochissimo, lascia un po' pensare alla tenuta di questa squadra che non è poi giovanissima ma ha elementi di sicura esperienza, tipo a Catellani, a Terzi, a Postigo, gente anche con esperienze internazionali. Quindi purtroppo queste cadute di tensione, queste cadute di calori forse anche fisici, ma più che altro mentali, fanno preoccupare un po' il tecnico che dovrà lavorare nei prossimi giorni proprio su questo aspetto. Contro l'Avelino il pronostico dal 2007 allo scorso campionato è stato spesso sfavorevole per i Liguri. L'anno scorso brucia ancora la sconfitta dell'anno scorso dove a un certo punto della gara si era messa decisamente in discesa e anche questo diciamo parte della tifoseria imputa anche su questa partita alcuni errori del tecnico che viene un po' anche se stimato, applaudito eccetera, viene un po' considerato in un certo senso incapace di cambiare le partite in corsa. E saranno diverse le novità di formazione previste contro i Lupi. Presumo che dopo il 5-1 di Cesena qualche cambio ci sia sicuramente per questa parte la squalifica di Postigo che cambia chiaramente la difesa, necessariamente la difesa, probabilmente potrebbe rientrare piccolo dopo l'infortunio partito alla prima giornata di Bari oppure potrebbe proseguire con Valentini già schierato lunedì sera a Cesena. Poi sicuramente taglierà Vilos, autore di una prestazione opaca a Cesena, abbiamo detto di Misici che è debuttato male a Cesena, quindi ci saranno sicuramente le modifiche.